Si aprirà mercoledì 7 dicembre il tradizionale appuntamento con i colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli, che quest'anno avrà come tema Custodi della scrittura, ebrei e cristiani, testimoni della parola. Il 37esimo incontro nazionale dei colloqui si concentrerà sulla comune eredità e sul compito condiviso da ebrei e cristiani. Custodi e testimoni della parola, le due comunità di fede, possono e devono incontrarsi nella condivisione di ciò che anzitutto le accomuna. La scrittura non può tuttavia restare lettera morta, ma deve diventare fondamento liturgico, morale e culturale, che avvicini le due comunità religiose e costituisca l'infa vitale per la società circostante. Il colloquio indagherà così il compito dell'esegeta, il complesso orizzonte del compimento, così come è delineato nelle scritture. Il caso Italia, per quanto riguarda il confronto ebraico-cristiano di fronte al testo sacro. Nel consueto clima ecumenico, uno spazio particolare sarà dedicato a commemorare i 500 anni della riforma di Martin Lutero, che tanta importanza ha dato alla pagina biblica. La comune testimonianza, ebraica e cristiana, di diverse confessioni della centralità della parola, sarà sottolineata come di consueto anche dai gruppi di studio, dai seminari, dallo scambio tra giovani, dai momenti artistici e di preghiera comune, nonché dalla possibilità di incontro e scambio quotidiano, che costituisce uno dei tratti distintivi dell'esperienza pluritrentennale dei colloqui. Un'iniziativa, cominciata nel 1980 sulla scia delle novità emerse dal Concilio Vaticano II, e in particolare da uno dei documenti chiave dal punto di vista del dialogo interreligioso, la dichiarazione Nostra Etate, incentrata sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane.